Il Movimento Libertà e Democrazia di Aldo Presutti va avanti con fatti concreti. Ci sono ben sei punti per un progetto dell'Isola di Ischia ad impatto ambientale zero, che partirà a breve, nel mese di novembre. Presutti. Sì, noi vogliamo proprio dimostrare che dalle parole noi passiamo alle soluzioni, come l'abbiamo sempre detto. Il Movimento è nato per i cittadini dell'Isola di Ischia, non per il sottoscritto, e per risolvere effettivamente i problemi. Per cui ci siamo messi al lavoro e in questi giorni sono riuscito a condattare queste aziende che già ho avuto contatto nel passato, però ho voluto andare al concreto, anche prendendomi l'onore di tutti i costi per far venire queste persone, perché molti stanno anche nel nord Italia. Per cui sarà un costo zero per i comuni di Ischia, un costo zero per tutti i cittadini dell'Isola di Ischia. Faremo venire queste persone sulla nostra isola per risolvere questi sei punti che mi sono molto al cuore e che li ho messi come punti primari. Quali sono questi sei punti? Chiaramente per ogni punto ci sarà un tecnico, un ingegnere di queste aziende che andranno a risolvere, o almeno andranno a proporre la loro azienda per risolvere effettivamente con i fatti questi problemi, sono in primis per tutto quello che riguarda la ricostruzione della zona rossa di Casamicciola e di L'Acquameno, ragione per cui c'è un progetto già iniziale, loro verranno sull'Ischia, verranno a fare dei sopraluoghi, faranno un plastico per poterlo far vedere alla comunità, a tutta l'isola, che cosa verrà realizzato in questa zona, verrà spiegato il come, verrà spiegato come risolvere i problemi che questi politici da ormai, dobbiamo dire, anni hanno solo parlato ma non hanno risolto. Loro portano anche le soluzioni, porteranno i finanziamenti, portano tutto, diciamo quasi chiave in mano per quello che riguarda il punto per la ricostruzione della zona di Casamicciola, L'Acquameno e quel po' di Forio. Il secondo punto sarebbe di realizzare due zone ecologiche, diciamo in poche parole, andiamo a autogestire i rifiuti solidi urbani con un recupero al 100% dei rifiuti solidi urbani, a questo punto non saranno più un costo, ma saranno un risorso come in moltissimi parti ormai dell'Europa. Il terzo punto sarà il servizio pubblico, arriverà anche lì un tecnico, un'azienda e quant'altro, per i servizi di Pullman, elettrici ovviamente, dove sarà autogestita dall'isola di Ischia il servizio, ma un servizio ad altissimo livello. Il quarto punto sono ormai i famosi le macchinine elettriche che ci saranno poi delle postazioni su tutto il territorio, dove una persona può utilizzare la macchina elettrica anche solo per un'ora, una mezz'ora, per uno spostamento, addirittura con un programma che hanno sui mobile, possono anche fare la prenotazione e il pagamento e quant'altro. Il quinto punto arriverà un'azienda che ci insegnerà, ci spiegherà come poter utilizzare nelle nostre sorgente delle acque calde che abbiamo a oltre 100 gradi per poter sostituire totalmente l'energia, chiamiamolo sporca, e sostituirla con una nostra energia che abbiamo nel sottosuolo ecologico, quasi a costo zero, ragion per cui è questo un altro punto. E il sesto punto sarebbe l'acqua potabile. Noi abbiamo moltissimi sorgenti delle acque potabile nel nostro sottosuolo, lo sfruttiamo e utilizziamo la nostra acqua e non più l'acqua che arriva dalla terraferma, che ci costa tantissimo per la dispersione e per ormai che è diventato un monopolio, non più dei singoli comuni, ma un monopolio della città metropolitana che decide su questo. Su questi sei punti, questi tecnici verranno nel mese di novembre, e ripeto, non a costi dei comuni, noi non vogliamo un centesimo dei comuni, non vogliamo un centesimo dei cittadini, noi portiamo le persone e sarà sicuramente, come sempre, Telischia che seguirà questi tecnici nei sopraluoghi, nelle spiegazioni, nel realizzare, nel come realizzare e a spiegare proprio dettagliatamente costi e quant'altro per la realizzazione. Diciamo, noi adesso abbiamo in qualche maniera scavalcato i comuni, già che non c'è la possibilità di poter interleguire con loro, allora il movimento si fa capo di queste iniziative e noi lotteremo e faremo di tutto che questi sei punti vengono realizzati il prima possibile. Ovviamente quello che vi voglio di nuovo ripetere, questo movimento non è del sottoscritto, io non sto facendo campagna elettorale, qualcuno mi ha anche detto, ma come mai che io parlo tanto se non ci sono ancora le elezioni? Io non sono in campagna elettorale e non ho creato il movimento per la mia persona, ma l'ho creato per il cittadino, per far diventare il cittadino il protagonista dell'Isola d'Ischia e del proprio futuro suo, dei figli e dei nipoti. Però per fare squadra ho bisogno di persone che ci affiancano a lavorare e ho bisogno che i cittadini dimostrano questa fede a questa iniziativa e si iscrivano al nostro sito che è www.libertagedemocrazia.it senza accento sulla A, è tutto attaccato, ripeto, www.libertagedemocrazia.it iscrivetevi, sarete sempre aggiornati di quello che stiamo facendo e tutte le persone che hanno voglia di lavorare, partecipare attivamente al nostro movimento, al vostro movimento, il 10 di novembre faremo la seconda assemblea. Ovviamente le persone devono essere iscritti, si farà la seconda assemblea, verranno aggiunti altre persone a questi tanti progetti che andiamo a sviluppare e io qua vi dico, ci sto mettendo la mia faccia, questi non saranno parole, ma questi saranno situazioni che verranno risolte, perché è nato per questo motivo, per risolvere i problemi finalmente a Ischia, per poter guardare Ischia in un futuro con un turismo di qualità, con un'isola ecologica, la prima isola ecologica che diventerà esempio per tutta l'Italia, per tutta l'Europa, ragione per cui un ottimo marketing, un'ottima propaganda, un'isola che diventa vivibile, un'isola che ritornerà a un turismo di qualità, sarà la rinascita e ci sarà una speranza non prossimativa, ma concreta, che il futuro di Ischia sarà un futuro di grande prosperità per i giovani e anche per i meno giovani.